Siamo qui oggi al secondo workshop di Labo e oggi vorrei che parlassimo di futuro perché penso che per una suola, per giovani amministratori, secondo l'Italia cominciare a capire quali sono le realtà imprenditoriali e di forza lavoro che ci sono sul nostro territorio per capire che ci sono delle realtà imprese che si fondano su dei valori che hanno radici storiche e ben definite e che hanno delle sfide importanti davanti da affrontare sono molto contento della presenza di Eberta Sinetti che ringrazio e oggi si cerca anche di costruire, o meglio ricostruire un'interproduzione che c'è sempre stata, è sempre stata propita tra il partito, in questo caso rappresentato da voi, i giovani amministratori di domani e le imprese cooperative, la realtà delle cooperative una realtà che spesso mi sono reso conto che è ignota o peggio, è misconosciuta perché non si capisce in realtà qual è il radicamento che questa impresa ha nel nostro territorio e quali sono le sfide che sta affrontando in parte anche sfide che hanno dei punti di contatto con la politica penso al fatto che, per esempio, in un momento cooperativo si è posto un problema, come quello del ricambio generale nazionale prima del partito e c'è una necessità anche di costruire un'interproduzione su dei problemi comuni quando parliamo oggi di appalti, di clausole sociali dobbiamo renderci conto che il sistema dell'UALFAC così come è stato costruito non si reggerebbe se non ci fossero delle imprese che operano in questo senso e così anche la realtà economica, la percentuale di produzione di DIL che le imprese cooperative rappresentano nel nostro territorio questa iniziativa, tra l'altro, è prodromica un workshop che noi faremo venerdì perché l'intenzione non è solo quella di fare lezioni frontali che vi diano degli strumenti noi abbiamo chiamato il kit degli attrezzi anche per una questione, diciamo, di abiltà non ci proponiamo ovviamente in 50 ore di decisione frontale di dare tutti gli strumenti per poter amministrare un territorio però almeno delle direttrici almeno delle direttrici di pensiero e anche degli strumenti facili per poterlo fare e non dimentichiamo mai che i miei protagonisti di l'albo siete voi quindi venerdì ci sarà un workshop in cui voi lavorerete con le attacche operative affrontando dei problemi che sono analoghi a questi due mondi chiederei, prima di dare la parola a Evel Frassinetti a Evel Frassinetti, a Evel Frassinetti di presentarci un po' il workshop di venerdì e ringrazio anche i sapazzali che vedo lì in fondo come cartelleria 18 perché alla fine dell'incontro vorrei anche che avreste alcune indicazioni su un futuro workshop che ha molto a che fare secondo me anche con questo perché riguarda l'arte dell'ascolto perché oggi essere amministratore vuol dire anche sapere ascoltare i problemi, i bisogni e le aspettative dei cittadini quindi partirei da una parola a Evel Frassinetti che ci dà alcune indicazioni anche pratiche su come ci muoviamo in vista di venerdì e poi lascio la parola a Evel Frassinetti per direi un intervento di 45 minuti, un'ora e poi lasciamo lo spazio per le domande come al solito ovviamente tutto è sempre viene registrato perché facciamo questa scuola in crowdfunding e quindi abbiamo l'obbligo di rendicontare quello che facciamo per i nostri datori che sono tanto generosi ma giustamente sono esigenti e quindi lascio la parola a Valeria Allora, per venerdì come diceva Marco saremo alla Casa del Popolo Lorenzoni che è nella zona gruppo-manigale di Bologna in via della Birra e cominciamo alle 5 con il workshop saremo divisi, c'è una prima parte di plenaria con Marco e Etel alla quale seguirà invece un lavoro a gruppi su 5 tematiche 5 temi esattamente trovate sul sito di Labo dove c'è anche la possibilità di pre-registrarsi al tema che vi interessa di più e alla fine di questo lavoro ci sarà di nuovo tutto il momento di plenare dove potremo confrontarci su quello che è stato un po' i risultati del lavoro a gruppi si finirà più o meno verso le 8 ci sarà un piccolo rinfresco poi dopo alle 8 e mezza la cena di 8 finanziamento che come sapete è importante per Labo e quindi prenotatevi c'è nel volantino e anche sul sito di Labo su Facebook la mia mail di lavoro quindi potete semplicemente chiedervi chi siete, quanti siete poi là ci sarà un desk per registrarsi e per dare il 15 euro di auto finanziamento quindi mi raccomando è importante la pre-registrazione perché ci consente anche di individuare i tavoli di lavoro sui quali poi faremo il confronto sarà un momento molto pratico quindi vi metteremo all'opera come è giusto che sia in un momento di confronto io lascio la parola subito a Eda e il pazienti per raccontarci che cos'è una cooperativa su quali valori si fonda e quali sono le sfide che le pre-operative si saranno a affrontare oggi e grazie Eda e per me per la partecipazione io non so se questo coso accedo può darsi mi sentite? mi è più comodo stare in piedi perché così mi rendo anche conto del tempo che passa e quando inizio a diventare ammorbante intanto ringrazio davvero voi per questo invito a essere in modalità workshop sia stasera che venerdì con voi in questo percorso di Labo che è una gran bella novità per questa città per il nostro territorio e anche per il lavoro che andrete a svolgere nei prossimi mesi come amministratori delle nostre comunità locali lo dico perché prima di entrare nel merito della presentazione due parole su chi sono io credo non tanto che fuggino curiosità che magari non avete però per metterci anche un po' di se abbiamo detto che è un incontro anche circolare non solo frontale ma per condividere anche i percorsi che in questo caso porto a una persona che ha mi guardo in faccia mediamente forse 7, 8, 10, 12 anni più di voi quindi non è che vista generazionalmente una distanza siderale perché anche io qualche anno fa una decina di anni fa mi sono trovata da contestualmente al mio percorso di studi universitari a fare un'esperienza di amministrazione locale sul nostro territorio in un piccolo comune della provincia che oggi non esiste più perché farà parte di un comune più grande che quello di Vassa Moggia però un'esperienza nel comune di Crispellano di stampo amministrativo e quindi ricordo proprio perché non sono passati secoli di quelli che sono anche interrogativi che una persona che si interessa di politica che fa una militanza attiva all'interno di un partito in quel caso lì non era ancora il partito democratico ma è poi quello che era diventato il partito democratico mi ricordo quali erano i miei interrogativi e anche quelli che erano i miei bisogni che erano bisogni di formazione che però non potevano essere soddisfatti solo dal percorso curricolare dal percorso tecnico per quanto uno potesse studiare fino a se a fare scelte politiche ma che venivano dal bisogno di conoscenza concreta di quello che era il proprio territorio e quindi sicuramente di viverla a propria comunità di viverla a diretto contatto dei cittadini ma di non essere solo semplicemente una cassa di risonanza ma una persona che potesse avere tutti gli strumenti per percorrere i fabbisogni avere una propria elaborazione personale all'interno dei quadri dei quadri di riferimento valoriale del proprio partito di riferimento e poi a tradurlo in azione amministrativa e politica e detta così è semplice in realtà è molto difficile e lo è ancora di più in un momento come questo in cui anche per chi come voi vuole fare politica attiva si trova a fare un momento in cui occuparsi della cosa pubblica è qualcosa che di per certe è legittima non è socialmente così riconosciuto e i problemi sono ancora più crudi ancora più intensi e quindi l'esercito della fantasia al potere per trovare delle solute di concreto diventa veramente una cosa ardua e quindi dicevo davvero bella questa iniziativa di LAVO e mi ha fatto molto piacere questo invito che è stato rivolto a Lega Coop come espressione importante del movimento cooperativo perché ci consente di intanto di conoscerci perché io vi guardo e penso che questa è una prima occasione di conoscenza ma immagino di aver davanti davvero gli amministratori di domani l'altro di due anni e quindi di incontrarci poi su dei tavoli di lavoro specifici a seconda delle amministrazioni nelle quali sarete e quindi immagino che questo sia un primo seme di conoscenza che poi davvero rilascerà frutti importanti io personalmente ho incontrato la cooperazione il movimento cooperativo per caso la dico in battuta una volta non era così ma non una volta milioni di anni fa probabilmente per la generazione dei nostri genitori non era così perché dopo lo vedremo anche nella presentazione fatta in Italia la cooperazione ha sempre avuto una specificità di essere molto politicizzata cosa che non è in nessun altro posto nel mondo e nel mondo ci sono più di un miliardo di soci quindi il fenomeno cooperativo non è un fenomeno italiano non è un fenomeno miliano un fenomeno mondiale ma solo in Italia è nato e si è sviluppato con delle colorazioni politiche quindi anche chi ha qualche anno più di noi la cooperazione non la incontrava per caso perché se la incontrava all'interno di un quadro politico di riferimento crollati in uguri con la pedagogia è venuto bene tutta quella roba lì il fenomeno cooperativo è rimasto ma non ha più trovato una modalità di dialogo codificata e strutturata con la parte politica e quindi quando andava bene i due fenomeni si sono progressivamente allontanati vivendo reciprocamente di stereotipi e di luoghi comuni le copronose da una parte i poteri forti il consociativismo la politica o queste robe che sono più da titolo di giornale che non dà effettiva conoscenza del fenomeno interditoriale che progressivamente si è alimentata una distanza allora siccome la politica può essere forte e utile se solo se conosce davvero il proprio territorio chi lo abita chi lo vive chi lo implementa e quindi ne dà una attraveranza che metta tutto tutti quella di stasera c'è una buona occasione di ricolmare quella distanza che è una distanza non di pergiudizi ma di reale conoscenza dei reciproci fenomeni allora così come ho chiesto il permesso a Marco nell'impostazione di queste breve slide io partirei proprio da là senza ripetere a bordarmi nel senso che rispettiamo i tempi però proviamo a ripartire proprio da che cos'è una cooperativa non dando per scontato che lo sappiamo anche perché un conto è dire sono nato e cresciuto a Bologna o sono nato e cresciuto da un'altra parte ma sono arrivata a Bologna per scudi per dinamiche familiari per altro e in qualche modo mi sono infacciato in una cooperativa una volta per sbaglio perché banalmente sono andata a fare la spesa in Coppa Adriatica avrò preso un taxi il contavo avrò avuto un'esperienza con una attività sociale cioè sono andata ma già alla Camp quindi la cooperativa si incontra tutti i giorni sapere esattamente che cose incontriamo non è detto che riusciamo a distinguere la differenza del fenomeno di quelle imprese e quindi dicevo partirei proprio da che cos'è una cooperativa perché immagino che anche nei vostri percorsi di studi siano essi giuridici economici di scienze politiche di comunicazione di formazione adesso provo a immaginare quali possono essere singoli percorsi di solito questa è una parte che si salta allora che cos'è una cooperativa una cooperativa è una associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici sociali culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un'impresa di proprietà comune e democraticamente controllata la parola chiave di questa definizione che è la definizione che l'alleanza delle cooperative internazionali si è data nel 1985 dopo ne vediamo un po' l'evoluzione storica dicevo il cuore di questa definizione è la parola impresa perché se io da questa definizione togliessi la parola impresa potrei fermarmi al fatto che la cooperativa è un'associazione e allora se al posto mio a parlare ci fosse Stefano Brugnara dell'Arci piuttosto che qualcuno del terzo settore ragionerebbe sul fatto che persone si mettono insieme volontariamente per conseguire un obiettivo ma il discrimine è che la differenza è che in questo caso se io costituisco una cooperativa lo faccio cioè do una risposta ai miei bisogni costruendo e costituendo un'impresa quindi il sostantivo è la parola impresa e l'aggettivo qualificativo è la parola cooperativa e dentro l'aggettivo qualificativo cioè dentro il fatto che è una cooperativa che cosa ci sta? ci sta il fatto che è un'impresa di proprietà comune e quindi è un'impresa che non è di nessuno che non c'è il padrone perché ci sono i soci che sono anche soci a tempo nel senso che ruotano e che è democraticamente controllata cosa significa? abbiamo detto società di persone che analizzano le tecnicalità come minimo una cooperativa si costituisce di tre soci fino a fino a quanti ci pare con la padriatica ha un milione e duecento nella soci possiede e gestisce un'impresa dicevamo prima un'impresa che nel codice civile che qua sono avvocati in sala quindi non è in realtà le storie danno 5 subito ma che giuridicamente è un'impresa che può essere in forma di SRL piuttosto che in altre forme del nostro codice civile come le altre quindi ha tutti gli obblighi e tutte le caratteristiche tecniche giuridiche societarie dell'impresa i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri quindi il diritto a partecipare alle decisioni gli stessi poteri indipendentemente da quanto capitano hanno investito io in una società privata normale se metto 10 conto per 10 se metto 1 conto per 1 in una cooperativa indipendentemente da quanto metto il voto è una testa un voto quindi è la democrazia diretta pura e l'altra peculiarità è che gli utili della gestione l'impresa cooperativa fa bilancio se fa utile e auspicabilmente fanno utili perché se no se non fanno utili è un guaio e vanno chiuso da recuperativa non fanno utili se fanno utile da dove ci sono questi non vengono sottratti e messe nelle tasche degli attivisti cioè se il signor personalità una cosa flambe e vriatore nella sua impresa fa utile legittimamente decide che quell'utile lo mette dove gli pare non necessariamente lo rimette nella sua azienda per reinvestirlo può decidere di fare quello che gli pare che è il suo è il suo gli utili della gestione le cooperative invece vengono gestiti in modo speciale una parte vengono restituiti ai soci sotto forma di ristorno il ristorno è dopo lo vediamo la parte che dice tu socio quanto ti sei impegnato nello scambio mutualistico con la tua cooperativa se ti sei impegnato per 10 ti ritornerà a 10 facciamo un esempio molto semplice prendiamo la cooperazione di consumo prendiamo Copa Adriatica se voi siete soci alla fine dell'anno sulla base di quanto scambio avete fatto con la cooperativa cioè quindi di quante volte avete fatto lo scambio d'acquisto con la vostra cooperativa c'è una percentuale di ristorno che vi viene ridata in quanto riconoscimento dello scambio mutualistico che se Valeria ha speso 10 varrà la x di 10 se Michele ha speso 8 varrà l'x di 8 quindi ha una proporzionalità rispetto a quanto avete conferito come socio nell'intesta dello scambio un'altra parte degli utili va a riserva indivisibile e quindi viene reinvestita nell'attività della cooperativa questo è fondamentale i patrimoni intergenerazionali che di esercizio in esercizio se in una cooperativa c'è l'utile io lo prendo e lo reinvesto nell'attività della cooperativa perché i soci di oggi devono investire per i soci di domani e qui c'è il grande tema che su me ha un fascino è una modernità che è quello su cui io personalmente mi sono innamorata del mondo cooperativo cioè il fatto che i soci di oggi investono per i soci di domani e in un mondo che è prigioniero del pensiero colpo e rapace che quello che c'è se posso lo prendo porto a casa dappertutto e quindi non investiamo neanche più ad esempio il consenso dell'oggi per fare le scelte coraggiosi di domani il fatto che se oggi faccio utile dobbiamo investire per un tempo in cui io magari non ci sono più secondo me a una tu marco prima di parlare di futuro a qualità esterna da ultimo una parte dell'utile va investito con finalità sociali e quindi per quella che si chiama mutualità esterna che tipi di cooperative abbiamo? per qualificare una cooperativa dobbiamo andare a vedere qual è lo scambio mutualistico cioè chi è il socio e cosa deve conferire il socio mi ricordo una prima slide dicevamo i soci si mettono insieme per soddisfare un proprio bisogno che può essere un bisogno di lavoro un bisogno di consumo un bisogno culturale cioè sono tanti i soci che si mettono insieme per fare una cooperativa di muratori in quel momento lì hanno bisogno di poter lavorare hanno bisogno di uno scambio mutualistico di lavoro la cooperativa di consumo si mette insieme perché ha bisogno di poter andare sul mercato a reperire dei beni di consumo al prezzo più conveniente possibile quindi in un caso c'è l'oggetto che è lo scambio mutualistico del lavoro in un altro caso c'è l'utenta quindi avremo le cooperative di lavoro se il socio è un lavoratore dice mi metto in cooperativa perché ho bisogno di lavorare e voglio lavorare non alle condizioni dopo lo vedremo a finito cento che mi fa il padrone ma quelle che io penso possono essere le condizioni più convenienti di me sul mercato la cooperativa di utenza qua ad esempio parliamo della coppia di consumo ma parliamo anche delle cooperative d'abitazione persone che si sono messe insieme e se andrete a fare gli amministratori sul vostro territorio vi troverete schiere di patrimoni immobiliari di cooperative coprisanamento copdotta cop murri copansaloni potrebbero essere loro che vi dicono qualcosa la coprisanamento ha fatto l'altro giorno 130 anni di vita tra i soci fondatori Giuseppe Marzini e Giuseppe Garibaldi tra i soci fondatori a Bologna le famose società operali di mutuo soccorso che per dare accesso alla casa alle fasce popolari hanno costruito cooperative di abitazione e anche qui bisogna la giudenza non della spesa ma della casa ho un bisogno di acquisto ho un bisogno di consumo non voglio le condizioni che mi fa il mercato dove se io vado nel mercato uno in mercato ho una condizione sfavorevole mi metto insieme poi le cooperative di supporto sono cooperative dove i soci sono lavoratori autonomi e conferiscono i prodotti pensate a tutta la cooperazione agricola la cooperazione dove il conferimento è del piccolo contenito che ha un affettamento di terra e se va al mercato da solo con il suo prodotto non glielo riconosce si mette in cooperative le cooperative della tiro caseario del conferimento di prodotto della valorizzazione di prodotto qui abbiamo i più grandi prodotti di cooperative e infine c'è un quarto tipo di cooperative che sono le cooperative sociali che sono le ultime nate della grande famiglia sono una peculiarità questa sì tutta italiana che nasce all'inizio degli anni 90 sono cooperative di lavoro dove i soci scambiano di lavoro ma operano nel settore socio-sanitario che sono le cooperative sociali tipo A guardo Martina perché uno che in casa ne parla ogni tanto e cooperative sociali invece tipo B perché sono le cooperative che lavorano sul reinserimento lavorativo di persone che hanno qualche forma di svantaggio sia un piuttosto di tossicodipendenza piuttosto che di endica fisico mentale o un qualche tipo di forma di fragilità in ogni modo lo scopo finale della cooperative è sempre quello valorizzare di più i conferimenti dei soci rispetto a quello che io da solo potrei avere se vado direttamente sul mercato origine della cooperazione dove nascono nascono in Inghilterra verso la metà dell'Ottocento nell'area di Manchester per intenderci il periodo storico è quello di Oliver Twist cioè è quell'Inghilterra lì quell'Inghilterra con il sottoproletariato urbano la post-revoluzione industriale ma anche l'Inghilterra in quel momento lì più tecnologicamente avanzata dove la classe operaia capisce che deve organizzarsi è la filosofia di Owen per intenderci quindi utopia quindi quel tessuto lì e la cooperativa nasce a fare cooperativa ben prima dei sindacati o ben prima dei partiti cioè le persone per questo dico c'è una distorsione tutta italiana del vedere la cooperazione come un fenomeno politico partitico da consociativismo spicciolo no? perché noi siamo ogni tanto abbiamo delle robe eccezionali e poi le infiliamo con delle lenti che ci fa vedere distorti i fenomeni nasce quindi e quindi è un fenomeno che nasce prima perché prima le persone capiscono che l'unione fa la forza anche nel poter fare imprese insieme e quindi è il sistema di difesa della casa operaia se poi non ci sfrutta qui siamo sintetici allora che ci organizziamo però è così per la spesa per la casa e per il lavoro è uno strumento di emancipazione di riscatto sociale queste sono le foto che noi cooperatori scaldano un po' il cuore nel senso che questi sono i pro i pionieri di Rossi Rossi è il paesino dove nasce la prima cooperativa che è il mio 244 come seconda arriva una cooperativa di Savona quindi per qualche giorno il tempo sono gli inglesi per il primato ma in realtà sarebbero i liburi sono per ai tessi gli artigiani e questa è la prima cooperativa uno spazio dove appunto i soci possono acquistare beni di prima necessità a prezzi convenienti che cosa dicono però anche i provi di Rossi non si limitano ed è qui che nasce la grandezza cooperativa non si limitano a dire noi adesso ci facciamo un'impresa facciamo uno spaccio punto no la mettono sopra una griglia di principi che poi sono diventati i principi i valori all'interno dei quali oggi noi abbiamo il 10% del PIL italiano che ha un PIL cooperativo quindi saranno le gine lontane ma noi veniamo da lì intanto libera adesione porta aperta se io chiedo di diventare socio la porta è aperta il controllo democratico l'abbiamo visto prima una testa a un voto l'istituto del ristorno sugli acquisti se tu diventi socio e poi sei dormiente e non scambi il patto mobilistico con la cooperativa non ti riconosco ho bisogno che tu sia un socio attivo l'interesse limitato al capitale questo dopo storicamente nel reale evoluzione neutralità politica e religiosa questi erano svegliere hanno già capito che il tema era l'autonomia e la capacità di organizzarsi verso il mercato non di vedersi messo il cappello da parte di qualcuno la vendita portanti che gli consentiva di sviluppare il bilancio e di non cadere a preda dei debiti questo si è notificato e lo sviluppo dell'educazione cioè da subito e sulla parola educazione dopo ci torniamo la consapevolezza che l'educazione valoriale è importante quindi tra le missioni istituzionali anche della nostra organizzazione c'è quella della promozione dei valori cooperativi del progenitismo si sarebbe detto una volta e dell'educazione ai valori cooperativi oggi come sono cambiati la definizione l'abbiamo vista prima i valori che sono quelli che troviamo nella carta del 95 l'ICA è l'International Cooperative l'Italianz quindi in italiano detto ACI però siamo qua un po' di club diciamo America i valori delle cooperative si basano sul tema dell'autoaiuto quindi l'autoimperditorialità della persona e qui guardate secondo me c'è un elemento di fiducia verso le potenzialità di una persona che anche qui in questo altro mare del nostro tempo che è un ottocollo essere passivi di aspettare che qualcuno ti dia c'è una logica anche un po' italiana sussidio assistente l'autoaiuto le persone hanno un valore in sé possono autoorganizzarsi l'autoimperditorialità da te possono venire risorse quindi il valore dell'autoaiuto della democrazia dell'eguaglianza dell'equità e della solidarietà i soci si riconoscono dei valori dell'onestà della trasparenza della responsabilità sociale e dell'attenzione verso gli altri io credo che queste siano le parole ognuna di queste prese dal sole è una pietra e noi ci stiamo troppo abituando con un cinismo che pialla tutto a pensare che siano belle parole e parole vuote io credo che se davvero lo prendiamo una per una sia un esercizio straordinario una fatica incredibile ma siano parole da riempire senza cinismi con grande passione con grande fatica sapendo che ci sono anche delle incoerenze e delle contraddizioni le dobbiamo affrontare non c'è nulla che è bello a prescindere che è tutto un mondo come dire verze ma queste sono parole che sono di una modernità e di un potenziale enorme quei principi dei barbuti di Rothstein hanno 150 anni quindi un po' si sono diciamo aggiornati come vedete è rimasta l'attesione libera e volontà nel controllo democratico la partecipazione economica dei soci era quello che prima era l'interesse che cosa vuol dire vuol dire che se io ci credo nella mia cooperativa devo avere una partecipazione economica poi a seconda di com'è lo scambio di intensità del fatto mutualistico avrò una commisurazione per diventare il sorso di coppa adriatica bastano 25 euro è uno scambio della spesa se è una cooperativa di lavoro dove è più articolato ci sono quote che hanno anche intensità diverse quella che era la neutralità politica e religiosa che è in fatto l'autonomia e l'indipendenza anche per caso in Italia anche il tema religioso era un tema politico il principio dell'educazione della formazione dell'informazione verso i soci è rimasto di stato raffrontato e il sesto principio che ha un potenziale enorme e che se dovessi tradurlo in maniera giornalistica all'oggi qua io ci scriverei FICO Fabrica Italia contadina è la cooperazione tra cooperative cioè la cooperazione tra cooperative quindi la cooperazione tra imprese cooperative non è un desiderato per noi è uno dei tratti principali dell'alleanza delle cooperative cioè non è un sistema chiuso che io non posso collaborare con un'impresa for profit normale ma se Luca ha un'impresa for profit normale mi chiede una cooperativa io sono una cooperativa in termini di mutualità preferenziale su un determinato progetto prima devo valutare se con l'altra cooperativa riesco a riuscire a fare valore sistema perché vuol dire che io e te mi chiedeci riconosciamo in uno schema di valori che ci fa conoscere la mutualità preferenziale poi tu non mi riesci a dare quel servizio che ho bisogno di un'impresa vado sul mercato in Italia si sviluppa impetuosamente come nel resto d'Europa la particolarità che vado un po' veloce è che da noi è soprattutto una cooperazione di lavoro soprattutto in questa terra andate indietro un po' con la memoria questa è una terra divergianti è una terra di lavori umili è una terra di di lavoro e quindi qui nasce la cooperazione di lavoro sia agricola che delle costruzioni che del taziale quindi qui nasce soprattutto questo tipo di esperienza poi all'inizio del novecento arriva anche il gran attivismo da parte dei sindacati degli operai che promuovono direttamente la costituzione delle cooperative soprattutto tra i braccianti del campale sempre come un elemento di emancipazione nell'86 dell'800 nasce la riga delle cooperative il governo giolitti nella sua stagione ricorderete quando giolitti disse la famosa frase che per governare l'Italia non ha parlato al gobo siamo ancora lì lui favorisce lo sviluppo della cooperazione perché li ammette agli appalti dei lavori pubblici cosa che prima non era bandita perché poi iniziano ad essere cooperative dei sediziosi socialisti comunisti da tenere fuori da tutto ovviamente il fascismo penalizza la cooperazione la prova a come ha fatto poi il fascismo in nostro paese non a eliminare ma a fascistizzare quindi a interiorizzare per naturalizzare per anestetizzare scioglie la lega non scioglie la cooperazione ma scioglie la lega e istituisce un organismo statale dopo la seconda guerra mondiale si ricostituiscono tutte le associazioni cooperative e qui nel 1945 quando nasce tutto il tripartito in Italia i rossi e i berli i bianchi anche le centrali cooperative diventano così come i tre sindacati così come le tre centrali dei commercianti così come la lega cop rossa quindi di ispirazione comunista e socialista la conf cooperative di ispirazione cattolica e l'associazione generale AGC di ispirazione laica repubblicana che ovviamente come immaginata la sua forza principale nella Romagna dell'Edera e quindi dei partiti liberali e repubblicani voi sapete che questa roba qua per noi che siamo nati da subito non so però insomma anche io mi ci metto ancora in quelli non proprio bacucchi cioè sembra una roba anacronistica però oggi i giornali fanno ancora i titoli con le cop rosse rosse allora secondo me è facile perché in alto carattere si sta al titolo però se per togliersi di dosso questi schemi che vengono davvero dalla seconda guerra mondiale noi facciamo molta fatica ma in realtà sappiamo che esistono ancora delle riconoscenze di queste logiche qual è stato il passo da gigante che noi abbiamo fatto e in questo siamo arrivati molto dopo all'esperimento che il partito democratico ha fatto di messe insieme delle varie famiglie politiche quella riformista laica e quella cattolica e tutto eccetera il partito democratico è partito prima noi siamo arrivati dopo ma ci siamo arrivati convinti e oggi è nata sta nascendo è nata sta crescendo l'alleanza delle cooperativi italiane ACI che è il coordinamento stabile tra queste tre forze quindi Lega Coop Cooperative AGC che ha l'obiettivo di essere la centrale unica di rappresentanza delle imprese cooperative in Italia punto set a colori questa roba qui avviene in tutto il mondo cioè se uno va in Francia dice rosso, verde, bianche o va in Germania guarda cosa quindi anche nella capacità di rappresentanza dei nostri interessi cooperativi per dire a Bruxelles visto che siamo anche notori di europee noi siamo molto più deboli di rappresentarsi perché prima va l'acqua della Lega poi arriva uno di Conf poi arriva una AGC e magari in tre c'è uno arriva il francese arriviamo anche noi questo però è un passo storico passaggio fondamentale invece in Italia questo è la mente in prevenzione sono quelle comunità che noi abbiamo anche qui al bando all'assimismo una delle carte costituzionali più belle tra quelle delle democrazie compiute e qui l'ho detto in prevenzione sono innamorata nel momento cooperativo quindi è chiaro che questo è particolarmente importante ma oltre agli articoli fondamentali che tutti conosciamo anche quando la nostra Costituzione proteggia la parte dell'economia lo fa con una lungimiranza e con un'idea di pluralismo delle varie forme imprenditoriali che non era banale nel 45 quindi riconosce davvero tutte le forme di impresa oggi che invece noi vediamo disastri del pensiero economico unico e quindi la Costituzione riconosce la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione la funzione sociale della cooperazione dentro la funzione sociale c'è quella roba che dicevamo prima cioè la Liga è un'organizzazione di cittadini che si mettono insieme a creare sulle imprese e democraticamente controllano il loro agire economico la riconosce perché dice ha carattere di mutualità e non ha fini di speculazione privata non dice che la speculazione privata è una roba che non va bene la speculazione privata è una roba legittima dice che la forma cooperativa non è quella e siccome ha un carattere di mutualità io la Repubblica te la riconosco e ne promuovo lo sviluppo da qui lo so tema della fiscalità cooperativa e ne la metto per iscritto una gran balla che le proprietà non pagano le tasse ma una gran balla perché una cooperativa può eludere le tasse non può fare ma il tema ma il tema è che su quella parte di utile che prima ti dicevo creatore compro io la cooperativa lo reinveste su quella parte di utile che io reinvesto non pago le tasse come se le paga il creatore perché le metto a reinvestimento tant'è che quando viene fuori questa polemica capillosa delle cooperative che non pagano le tasse noi abbiamo sempre detto fin quando Tremonti era lato al buco sotto la scrivania ma scusi Tremonti così come con tutti i ministeri del tesoro ma non ditte che le copertie non pagano le tasse smettiamola in positivo tutte le imprese cop o non cop che mettono l'utile a reinvestimento dentro l'azienda hanno una fiscalità pregnata cioè il punto non è se sei cop o se non sei cop ma è cosa che fai di quell'utile se quell'utile lo rimette all'investimento lì scatta una agevolazione della cassa va bene il 2012 è stato l'anno eccolo qui è stato l'anno internazionale della cooperazione e le parole di Ban Ki-moon sono le cooperative ricordano alla comunità internazionale che è possibile perseguire l'efficienza economica e la responsabilità sociale insieme guardate io la più grande aspettativa che nutro non verso l'Abu ma verso chi è nato negli anni 80 negli anni 90 è che con la dimensione internazionale europea prima internazionale con tutti i fenomeni non ve lo poniate neanche come opzione è così punto perché noi se no di provincialismo fuoriamo cioè il fatto che io lo vedo anche nel mio lavoro se poi uno è abituato a stare tra Modena e Reggio e Bologna sta poi tra Modena e Reggio e Bologna poi il 80% ha produttore normativa a Bruxelles che nelle transazioni economiche finanziarie sia nel mondo che i figli fanno le ragioni e vanno a studiare di là ma io se poi sto comodo tra Reggio e Bologna poi sto lì poi vado un po' a Romagna mi sembra allontanarmi troppo allora questa è una provocazione ma mica tanto ma mica tanto anche perché piccola notte polemica il policentrismo è assegnato danni nel senso che che segna una logica del consenso strano distorta ma torno avanti per dire che davvero non si amica un fenomeno che ha gli accenti dei campanili cioè bisogna che guardiamo questa diversione qua allora se il 2012 sono internazionali cooperative e se qui ci dicono perché è così che è possibile non fare della solidarietà pelosa cioè il tema non è che la cooperative è l'impresa faccio i grandi utili la sua provocazione di Stato faccio l'Eni faccio l'Ener faccio i due della Madonna picchio in testa al consumatore e poi faccio la fondazione lì nel cuore faccio la grafica di filantropia non è così la cooperativa per esempio la sua responsabilità sociale l'impresa la mette in campo mentre fa l'impresa non è che fa la solidarietà minatale quella si chiama liberalità che è esistente ma è un'altra approccia è un'altra cosa quindi è possibile fare impresa farla con un'efficienza di sostanzialità economica e farla con responsabilità sociale per intenderci cioè io non sono sicura che se dico a un collega cooperatore nato negli anni 50 che vive per campo galliano o a russi che il mondo cooperativo lo sa ha piaciuto perché poi c'è l'Emilia Romare che è il centro del mondo non è anche qui poi sono le 8 quindi sono quasi poi da lavorare di lavoro quindi nessuno riporterà che il direttore c'è quella roba lì che resiste però per dire le imprese cooperative sono un fenomeno mondiale mondiale ci sono 800 milioni di soci nel mondo le nazioni hanno valutato nel 94 che la vita di quasi 3 miliardi di persone quindi in Italia della popolazione è stata resa più sicura tramite l'impresa cooperativa quei principi che abbiamo visto prima valgono per la copa adriatrica come per la copa dell'esoto come per la copa che sta a casa city cioè sono principi per tutti quindi vuol dire che questi numeri si iscrivono per tutti dentro a quel blocco di l'inno anche qui più velocemente belgio probabilmente le cose più significative perché l'altra cosa che dobbiamo assolutamente contrastare è che le cooperative sono i sottolupi sfigati le cooperative sono i poteri forti l'unico o le cooperative sociali sfigati no eh cioè le cooperative e quindi i soci e le persone possono organizzare qualunque pezzo di mercato qualunque pezzo tecnica qualunque in Spagna si sono interessi attori produttivi manifatturieri cooperativi mombrano per intendersi è una roba ovuniana dove tutto è cooperativo dove non c'è un padrone quindi ho chiamato qui quando Montendello disse qualche anno fa ma voi è cooperativo fate male al supermercato voi fate quella roba lì che noi campionati quelli seri li facciamo noi no Belgio farmacie cooperative Germania qui mai nessuno quasi lo sa sono 20 milioni i soci di cooperative e il sistema bancario tedesco è praticamente cooperativo Francia in agricoltura sono solo cooperative da 700 mila persone Svetta l'animale è cooperativa di consumo Stati Uniti pensate al tema degli spazi degli Stati Uniti ha le grandi risorse naturali che hanno gli Stati Uniti Stati Uniti e Canada hanno una cooperazione fortissima delle reti infrastrutturali le reti gas luci elettriche acqua cioè quelli che per noi sono le multi utilities che noi vediamo una roba lì parla pubblica che è cooperative cooperative sociale non sono stato ci sono i cittadini non sono stati in qualche forma organizzati Giappone noi non diciamo più i giapponesi vengono tutti qui a studiarci cioè c'è un'invasione come ricavano i giapponesi i coreani tutti qua e poi chiaramente anche Asia e quant'altro quindi questa è una foto per dire che insomma ci saranno anche le vivie romane poi in mezzo ma c'è anche molto alto in Africa va bene quindi che cosa ci dice in relazione all'anno internazionale che quelli che sono i direlli globali quelli con cui noi davvero da questo punto di vista siamo cresciuti anche culturalmente quindi ormai per noi il fatto del tema del degrado ambientale del portamento delle risorse la qualità di un'evoluzione sbilanciata il 20% di persone nel mondo che hanno il 80% di risorse eccetera l'instabilità del settore finanziario la crescente disuguaglianza economica l'increscente ingovernabilità dei paesi delle frontiere transnazionali le nuove generazioni con le maggiori possibilità di diritti e la mancanza di fiducia nelle organizzazioni economiche e politiche dice l'Ano internazionale e le Nazioni Unite le cooperative possono contribuire e già contribuiscono significativamente ad alleviare il peso di queste problematiche globali e quindi la cooperativa questo lo diciamo lo dice proprio la cooperativa è l'impresa del futuro perché qui Marco ha studiato mette al centro le persone spinge sulla tua auto vuole di promuoverti l'auto emancipazione promuove il protagonismo sociale economico delle persone genera maggior stabilità economica sociale e ambientale e dentro il 2020 nella strategia di Lisbona il modello cooperativo deve essere un modello di leadership e un sondaggio arrivato dal punto di vista europeo viene riconosciuto come un modello preferito dagli individui e quello che può garantire un sistema di crescita imprenditoriale più veloce qui solo una nota non c'è nella parte europea avete visto che manca completamente tutta la parte ex-unione sovietica e lì sì il fenomeno cooperativo è stato un fenomeno distorsivo perché era lo Stato e la parte europea quindi non c'era auto non c'era l'iniziativa del single no? la nostra legge è stato anche le cooperative allora ovviamente viene meno tutto tutto questo dell'alleanza delle cooperative ve l'ho detto qualche numero perché i numeri non sono solo muscoli ma sono anche i mattoni sui pali quindi speriamo veramente una rappresentanza in Italia oggi l'alleanza delle cooperative quindi tutte e tre le famiglie messi insieme rappresentano 43 mila imprese sono attive in tutti i settori in tutte le regioni è un fenomeno nazionale noi qui vediamo storicamente più la presenza della cooperazione rossa ma se voi andate in Trentino se andate nel Veneto Cesaro ci sono altre famiglie storiche ci sono 12 milioni di soci è quasi una battuta più grande 1 milione e 300 mila occupati è ovviamente una battuta e 127 miliardi di euro di fatturato quindi l'8 barra 10% del PIB nazionale è un numero incredibile è proprio un numero incredibile se guardiamo anche come adesso non so se avete fatto ho visto un po' nel vostro programma ma la metodologia con la quale alla fine tu vai a misurare il PIL ma quelli sono 10 punti di PIL in colonia reale è un numero che prende molto spazio 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 di bancari spazio di consumo spazio di aggravi mentale UE sono quelli di prima vedete c'è una ripartizione che parte la GC insomma che ha chiaramente questa sì una una presenza regione centrica nel senso che è delle parti soprattutto della Romagna quindi è la più piccola vedete che le altre due anche se noi siamo più regioni c'è in PIL perché comunque la storia è la storia porta delle sedimentazioni se guardate le due famiglie lega pop con cooperativa a livello nazionale sono molto bilanciate qui perché c'è una sproposizione di soci perché la cooperazione di consumo che è quella che ha più soci è tutta di matrice lega pop due parole su lega cop siamo articolati da questo punto di vista sì così come tutti i corpi intermedi noi siamo un corpo intermedio e quindi abbiamo una strutturazione che è molto simile anche a quella dei partiti e a quella dei sindacati quindi sia nelle organizzazioni verticale su un'economia verticale nel territorio comunque insomma nazionale regionale e provinciale e poi settoriale e quindi le cooperative di consumatori le cooperative agroalimentari le cooperative di abitanti le cooperative di dettaglianti per intenderci il CONAD le cooperative di produzione lavoro quelle dei servizi quelle della pesca le cooperative dei media pensate che praticamente tutti i giornali sono editati siano essere testate cartaceo online da cooperative di giornalisti quindi mediaco le cooperative sociali e le cooperative che operano nel turismo questo non mi interessa questi sono i loghi che vi dicevo prima quindi i vari settori che sono importanti anche perché voi immaginate che siccome tra i nostri compiti c'è quello di fare anche qui proviamo a sdoganare in termini positivi un termine che è quello della lobby perché dico sdoganare in termini positivi perché noi ci vediamo sempre all'italiano le pratiche opacità ma se tu sei un corpo sociale intermedio così come sei un partito se ci togliamo gli occhi della distorsione e in maniera trasparente di contenuti provi a rappresentare gli interessi dei tuoi associati o in questo caso dei tuoi elettori lo fai in maniera trasparente all'interno delle regole del gioco non solo non sei nulla di male ma io voglio sapere tu nel momento in cui ti candidi o io nel momento in cui rappresento delle cooperative che maglietta o è più che interlocutore è davanti allora da questo punto di vista siccome anche tutto il tema dei ministeri della produzione della normativa a tutti i livelli è chiaramente settoriale è importante che ci sia anche un'organizzazione settoriale banalmente nel momento in cui l'anno scorso viene fuori da una roba nazionale il tema dei termini di pagamento tra fornitori e clienti in cui c'è questa annosa questione dei pagamenti a ritardo dei pagamenti che non partono mai noi qui dentro abbiamo Lega Coop pagano alimentare dove ci sono le cooperative agricole che rispetto a Coop e a Conad gli forniscono i prodotti quindi questi sono fornitori quindi noi in quel momento lì rappresentavamo quelli che volevano venersi pagare subito e quelli che volevano aspettare a pagare la politica di bilancio del primo giorno sui tempi di pagamento è importante sapere quali sono gli interessi che sono lì adesso in questo caso voi farete gli amministratori se io dovessi venire a parlare con voi verrei in questa sessione delle cooperative sociali e con queste cooperative di servizi e le cooperative di produzione del lavoro che diranno scusi sindaco perché io ho fatto i lavori 180 giorni fa e non li paghi sto banalizzando ma non troppo però è importante che ci sia che sia chiaro quale è l'interesse che in quel momento devo rappresentare allora l'organizzazione per settori ci consente anche di essere molto leggibili molto leggibili anche dal nostro interlocutore soprattutto amministrativo noi abbiamo un sacco di strutture di sistema il lavoro la formazione ma questo è un lavoro in demoglio ecco una cosa interessante sulla quale mi soffermo anche perché anche qui pillola di iniezione di fiducia noi italiani siamo siamo italiani siamo affrazzonati siamo molto spesso casuali siamo un po' la garibaldina siamo incidentali ma quando le becchiamo a volte facciamo delle cose straordinarie nel 92 al di là della mazzata della finanziaria è uscita una legge che è la legge del 59 che per me è particolarmente importante in cui per legge si dice bene le cooperative non solo reinvestono gli utili che abbiamo fatto prima nello sviluppo di nuova cooperazione di nuovi investimenti ma io per legge ti dico a voi cooperative che sull'utile che fate dovete mettere un 3% secco di quell'utile lì un 3% secco in un fondo che gestite voi ma non lo dico per legge che dovete fare per sviluppare nuove cooperative per fare approvazione cooperativa e quindi è la legge che ti dice devi fare un fondo mutualistico che ci vengono a studiare in tutto il mondo che per noi si chiama co-fond dove a questo fondo tutti gli anni quando le imprese chiudono i bilanci gli arriva il suo conto con il 3% degli utili di tutte le imprese che non è poca cosa perché se Copcostruzione in quest'anno chiude con non lo so se dovessi chiudere inutile da sempre con amplitudine con 300 mila euro di utile di quell'utile lì allora una parte lo deve dare al ristorno dei soci una parte va ai soci moratori che a seconda di quanto hanno lavorato per prima una parte la maggior parte lo mette dentro all'impresa e fa dei reinvestimenti per l'impresa il 3% lo mette nel fondo che non torna a Copcostruzioni ma se la giovane cooperativa di soci XY ha un'idea imprenditoriale viene in lega parla con Luca se c'è un piano industriale che tiene si va a Copfond che finanzia quella nuova cooperazione ma non è iniziativa benefica cioè lo fa se c'è la sostenibilità economica di quell'iniziativa Lega Coppolone siamo noi qui in modo veloce perché sennò poi è un po' lunga a Bologna sono 204 una volta sono 251 non so esattamente quanti siano perché sono queste sono 200 imprese cooperative sono 50.000 dipendenti ragazzi cioè se voi pensate adesso io non so se voi qui siete a maggioranza a Bologna centrica o territorio della provincia ho visto più che riguarda la provincia c'è molto del reddito da lavoro di quelli che saranno i vostri interruttori delle famiglie che voi rappresenterete 50.000 soci e lavoratori oltre milioni di soci 130 miliardi 13 miliardi fatturate qui io più che farmi la carrellata a lista ho provato a mettere i login delle imprese perché dicevo prima la cooperazione è un fenomeno che a volte incontro quasi accidentalmente allora io credo questi siano i loghi di riconoscibilità proprio della nostra città uno va diciamo quello non scolta la nostra città però qui c'è di tutto se io prendo la vettina che sta a Bargerino di Calderara non so se c'è qualcuno che di voi di cioè questi fanno gli stamp è una cooperativa di soci che ha una fabbrica fanno gli stamp per la BMW con la specificità che loro non c'hanno padrone sono i 50 soci hanno la loro cooperativa che fa l'istante l'avere due hanno il controllo finiscono di lavorare ma la fanno con l'amministrazione dove non c'è il signore x marcio loro e x è un modo anche molto gratificante quindi cooperative d'abitazione questa vi dicevo prima i soci fondatori Mazzini e Garibaldi la parte più ad alta intensità edile la conoscete con anche i problemi che ci sono il settore della distribuzione soprattutto Coop e Conad ma anche Coim che è Coop Industria che è una di Castel Maggiore e lì c'è la produzione dei prodotti di Marchio Coop quindi c'è l'attività illustriale vera nel settore dei servizi sicuramente tra le più conosciute la CAMST quindi i servizi di installazione collettiva da Montecop su tutto il tema del facility management e delle pulizie ma anche su Gese e quindi le piscine le piscine di Bologna sono operative il settore bancario assicurativo soprattutto unico con il suo sistema di rete assico che avrete immagino in molti dei primi della vostra provincia e la banca di Bologna nel settore agroalimentare Granarola e Granlatte Agri Bologna quindi mercato di frutticolo di frutticolo conferimento di frutta e verdura Alcenero che è un marchio che immagino conosciate con api quindi qui i soci conferitori sono i soci che hanno il miele sono dei produttori di miele che poi hanno dato vita anche Alcenero Avola è una cooperativa che nasce anche qui il nome è molto simbolico su molti di Diabolo la gente ci credeva parecchio e oggi sono anche partiva di lavoro che fanno lavoro verde giardinaggio logista che trasporto i taxisti piuttosto che altri siti sul settore culturale due teatri soprattutto quindi l'IPC di San Lazzaro per chi di voi lo conosce la baracca quindi i testoni ai ragazzi che è anche qui un'eccellenza a livello come minimo europeo ora di fronte ai salesiani sono 20 soci di una cooperativa voligroup sulle cooperative sociali di AIDOLCE la TECOP la RUPE dietro ogni tipo di questa cooperativa sociale c'è una sfiga diversa c'è una fragilità diversa quindi abbiamo i percorsi per gli ex detenuti fragilità legate alle tossicodipendenti alla salute mentale all'handicap fisico insomma N anche qui questa è la slide sull'orgoglio cooperativo delle prime delle prime dieci questa foto è il resto del carlino è pronta le water house recuper delle prime dieci imprese di Bologna delle prime dieci otto sono cooperative l'altra era non si va a dire le imprese poi prendiamo e poi battolini con l'espresso battuta lo dico in termini muscolari lo dico perché voglio dire che questi sono valori indipendentemente dal valore economico ragazzi noi sono un valore di fare crofta avere sul territorio questi gruppi con le test e queste dimensioni può dire che per essere anche attattivi per i talenti e per le persone che più studi se no oggi andare a Milano tu in 40 minuti ci vai cioè noi bisogna che tratteniamo questi questi centri anche di di sedi direzionali qui cioè è un patrimonio al di là del valore economico chiudo davvero tra i cantieri di lavoro più interessanti in questo momento che poi magari saranno oggetti di venerdì però lancio i titoli il tema del welfare il tema della legalità e il tema dell'occupazione del territorio riside del welfare pubblico il sistema di welfare nasce per dare l'individuo la protezione che da solo non riuscireva ad assicurarsi però magari lo vediamo adesso per caso sono i titoli quindi vediamo venerdì quindi cooperazione del welfare la legalità tutto il lavoro che facciamo con l'agenzia cooperare con il libera terra quindi tutto il lavoro poi so che avete anche un modulo sui beni e patrimoni agendari confiscati alla criminalità organizzata e da ultimo dicevo prima occupazione soprattutto giovanile e territorio il progetto che alla stampa è passato per la forma di Fico quindi pubblico italiana e contadina che sarà Italy World è un grande progetto di cooperazione tra cooperative e di cooperazione con il territorio se e dico se come sembra nel giro di 15 mesi ci sarà questa iniziativa a Bologna io credo sarà una prova eccezionale di come effettivamente mettere in campo le energie migliori pensiamo a creare e avere anche un'opportunità occupazionale soprattutto giovanile a breve sul nostro territorio io mi fermo qui spero di rilassi è stata troppo lunga volevo trasmettere di questo insomma il fatto che quando ci si è approccio alla cooperazione è meglio spogliarsi di quelle poche nozioni che forse abbiamo perché forse ce ne ha usate qualcuno con i dei d'occhiali un po' sono già parlati e un po' su di storia in realtà è una cosa che come ho provato di dirmi è molto autentica dal mio punto di vista anche molto appassionante e molto moderna e vale la pena conoscere soprattutto voi che amministrerete vale la pena scambiare parecchio allora grazie penso che adesso abbiamo sicuramente una visione più ampia e più dettagliata di cosa sia quella che tu giustamente chiami impresa cooperativa ma ti ringrazio soprattutto perché si capisce la tua parola anche la passione quello che tu chiami l'innamoramento per per un modo particolare di fare impresa io rompendo gli schemi faccio anche altri due ringraziamenti in questo caso anche se non faccio mai ringraziamenti però questi due casi sono dovuti il primo è a Francesco Pierrantoni vorrei che facessimo un applauso video registrando e dandoci un principio di accountability che secondo me fa bene proprio a chi vuole fare l'amministratore e chi in generale preoccuparsi di politica e il secondo ringraziamento è personale a Luca Grosso perché mi ha dato la possibilità di guardare veramente la realtà della cooperativa con gli occhiali con gli aperti giusti una cosa solo per farvi capire quello che diceva prima Efe sulla dimensione internazionale adesso lui imbarazzi diventerò su me è un classico però una volta ci siamo trovati con l'ex segretario del partito della Sud Corea che ci veniva a chiedere qual è la disciplina legislativa del fenomeno cooperativo in Italia è successo un anno fa e questo mi ha dato molto da pensare e da riflettere cioè pensare che c'è una realtà del mondo che è quella dimensione internazionale che Efe ci tratteggiava prima che viene da noi non più per copiare prodotti ma per capire regole di funzionamento di una disciplina economica con finalità sociale che sono al centro della persona per riproporre e magari adattare un modello di crescita a quella realtà ecco questo è un piccolo esempio per dirvi che cos'è anche il mondo delle cooperative che da qui viene visto anche come un punto di riferimento molto più di quello che l'etichetta tra le rette poteri forti o le visioni giornalistiche possono banalizzare io mi fermo qui ci sono domande Francesco vorrei chiedere se sono stati fatti degli studi su come esportare il modello delle cooperative in altre parti dell'Italia io in particolare ho dei parenti della mia ragazza che sono in Puglia e mi sono sempre chiesto come è diverso e come c'è questa difficoltà a legarsi in cooperative e ho visto che sono alla mania di diciamo persone che si distruttano in qualche modo e non ho mai capito il motivo per quale noi ce l'abbiamo e loro non ce l'hanno raccogliamo un po' di domande così la possibilità la cosa bella quando si parla di cooperative è questa lo slogan impresa ma anche cuore sociale mente economica e cuore sociale e è un po' anche un manifesto politico-economico per questo che siamo afflezionati da questa parte politica con l'esperienza lì per cui c'è anche questo scambio forse troppo poco però il problema è che in un'unione negare che negli ultimi anni la cooperativa come nel mondo della cooperazione è stato macchiato da esperienze che mi riuscì quindi in realtà mi chiedo e ci chiediamo da cittadini prima che da futuri non so cosa se dopo l'esperienza a Lampedusa dopo l'esperienza di sfruttamento che alcune cooperative hanno messo in atto c'è una solidà maggiore da parte della Lega Coop cercare di intervenire prima che finisca sui giornali queste cose e quindi un monitoraggio a monte di tutte queste esperienze perché si dà passa all'impressione noi abbiamo l'impressione che nascono solo per vantaggi economici e poi in realtà in tutti questi bei principi la Lega insomma non monitora quindi quello che dopo accade realmente è che è soltanto uno strumento per evitare qualche costo comunque qualche costo burocratico bene altre domande facciamo rispondere a queste che poi si vengono a rifiutare ma dove va ecco allora rispetto a quello che dicevi tu sui territori ho capito lo spirito nella domanda non si correggono le domande però non direi esportare il modello perché sai perché perché già il fatto che ad esempio noi siamo una regione molto cooperativa ogni volta che andiamo fuori sembra quasi che tu vai sulla colonizzazione di altri territori dando per scontato una sorta di bisogno che tu devi perché tu sai come si fai quindi vai in più di a dire che e quindi dai per scontato che tu è quello che vince e vai a spiegare allora da questo punto di vista il territorio la farà la chiave e ci sono delle segmentazioni da questo punto di vista davvero secolari del modo di stare insieme delle comunità che hanno fatto la differenza quando prima dicevo il territorio emiliano romagnolo era un territorio se pensiamo all'inizio di 900 bonifica di lavoro ma era un territorio molto collettivo proprio nel DNA di questa regione c'era l'idea del collettivismo senza arrivare in Puglia se io vado già a vedere in Toscana dove invece la storia è la storia delle città non è la storia della pianura padana o della romagna nella storia delle città della competizione tra le città c'è già un tipo di cooperazione che è una cooperazione molto più spinosa è molto più difficile fare cooperazione nelle città toscane se vado a vedere in Sardegna che è un territorio diffidente come la Sicilia sono diffidente tra di loro e la cooperativa presuppone fiducia se non tu non la fai la Puglia è una terra in questo caso che ultimamente ha riscoperto un bisogno di cooperazione che ha un'esplosione o un'intensità che se io ti dovesse dire qual è la regione che ultimamente ha avuto più santo che cattiva è la Puglia soprattutto l'agroalimentare ma non perché qualcuno non è andato a dire perché hanno capito che c'erano prendere i grandi gruppi per il suo conferimento dell'arte c'erano di pagare ma no adesso ci sono soci e ti riprendi in mano un proprio futuro però da questo punto di vista le caratteristiche del territorio e delle comunità sono fondamentali una delle cooperazioni più invidiabili è quella Trentina se voi andate a prendere per curiosità la storia della cooperazione agricola e delle mele questi a mele a mele buonissimi ma fanno veramente le scarpe al mondo perché loro hanno capito che la loro forza è stare insieme e hanno un'idea che riesce a travalicare il confine naturale delle valli il consorcio della Melinda che è un consorcio cooperativo è un consorcio che ha la leadership mondiale della della dell'arrivo federale perché non lo potrebbe fare la Puglia perché sono sono storie di davvero territori diversi però mi viene più comodo farti il paragone tra Toscana e Emilia perché uno anche la Toscana non fa parte del gruppo di quelle emancipate ma in realtà lì passa una competizione tra Campanini che non c'è comunque non c'è in Emilia Romagna dove tu hai sempre un territorio più abituato a dover fare insieme l'esperienza che abbiamo fatto sulla promozione di cooperativi giovanini sui beni confiscati alle mafie è un'esperienza poi magari quando faremo un luogo Luca li racconterà anche di più che è stata in prima battuta un'esperienza di allineamento dei linguaggi cioè mette a disposizione la dico così le competenze in termini di dirigenti cooperativi risorse economiche di persone di scaffali di coppa adriatica per dire se tu fai il prodotto si viene confiscato io te lo vendo per riuscire a capire che è una collaborazione non una colorizzazione del grande potente nord che arrivava a dare ci abbiamo messo tanto tempo nel riconoscersi prima come cooperatore con un collaborare non come adesso ti spiego come si fa famo la passata di pomodoro di libera che poi te la vendo non è così e quindi io credo che sia un po' questa differenza rispetto a quello che dicevi tu mi chiede sì il il rischio è sempre quello ed è anche giusto di vedere la mela marcia però non riesco che va corso anche perché bisogna poi sempre stare vigili quando sei molto convinti bisogna sempre avere in tasca un ruolo parlante che ti fa vedere anche quali sono i terremi di incursione di contraddittori quindi bisogna essere molto vicini ti posso dire questo la lega di bologna fino a 4 fino a 2 sono nelle operative oggi sono 200 non perché sono tutte fallite perché alcune sono fuori perché le abbiamo messe fuori poi non vuol dire che quelle 200 che hai dentro non sia nei comportamenti però ti sei preso in carico il bisogno di fare una selezione contro la porta per contro chi noi ad esempio a Bologna abbiamo istituito per la prima volta un codice etico banalmente io una mia cooperativa per cartellino la difendo ma è come una mamma che difende un figlio, passami il paragone ma non vuol mica dire che io sempre difendo un interesse che viene condotto in modo legittimo allora io mi sono messa a campo un comitato etico sulla base di un codice etico alla terza età di indipendenza perché quando io ho sul tavolo dei casi torniamo all'ultimo caso delle croniche, il cop service sull'università lì dove era il nodo? Era nell'appalto dell'università? Era nel contratto che aveva firmato il sindacato? secondo me c'era qualcosa che non va bene perché pagare il lavoro così non va bene e io ho bisogno di capire perché, no? ma non c'è un cop che prende un lavoro dovendo fare un ribasso del 40% sui servizi pulite le scuole non vengono pulite, ve la butto lì voi che domani farete i sindaci il tema della spending review che taglia ore è la cooperativa che si trova ad arrivare a prendere un lavoro con le ore tagliate e poi si sente rimpallare le responsabilità o è dei bidelli che vengono, come dire, scudati dai sindacati che sono tutti stesi sulla funzione pubblica che dicono, no, non le aule non le chiediamo perché hanno le nostre emozioni provocatoriamente, anche qui siamo fuori cioè, allora, io per etichetta dico, è un cop service, no? però si fa così mi sono messa accanto un comitato etico che mi aiuta a capire, partita per partita dov'è che poi c'è anche un comportamento che è sulla produsa, palesemente, cioè, voglio dire che cazzo, cazzo, partiamo così tra la lega cioè, io per prima, quando vedo una roba così mi viene da chiamare i colleghi da Sicilio ma non va bene, cioè, anche perché se tu conosci i tuoi associati, non va bene cioè, poi, chiaramente il nostro controllo è un controllo che sta sull'informazione ma non è che possa essere esaustivo e tu conosci tutti i comportamenti quindi, la nostra soluzione procedurale è stata quella, ad esempio, di istituire con un codice etico un comitato etico solo qua, questa no insomma, anche perché siamo partiti da un assunto che noi abbiamo tra i nostri valori un valore che è quello della reputazione cooperativa cioè, se io vengo a raccontarvi le cose che vi ho raccontato e le vengo a raccontare con l'autenticità in cui credo io sto mettendo in gioco un valore che è la reputazione che non è banale e nel momento in cui ve lo rappresento come un valore che appartiene a un sistema se tu cooperativa ledi quella reputazione stai ledendo anche la mia perché è un valore che conviviamo in solido quindi è bene trovare dei meccanismi che la governino la reputazione poi non riesce a essere come dire inscalfibile ok? però quando è successo il disastro da cocos tuttori di Argenta con tutta quella roba valido legale cioè, gli schizzi dell'impasto sono arrivati anche qua a Bologna e io non so neanche una faccia però arrivano qua perché tu proponi un valore una fiducia che sta in solido che ha una reputazione collettiva allora ho bisogno di avere degli strumenti che mi tenino anche a me noi abbiamo trovato lo schermo del comunicato grazie sentite sì io penso che questa fosse un'occasione importante di dialogo di rianodare i fili di un discorso mi è capitato recentemente di vedere che la politica spesso rispetto al movimento cooperativo si limite un po' a delle espressioni di solidarietà la solidarietà politica è importante penso a quello che è successo per esempio a Granarola la solidarietà politica è importante però alla politica all'amministrazione si deve chiedere qualcosa di più si deve chiedere una visione si deve chiedere di recuperare un'idea di un futuro in un territorio e penso che in questo veramente bisogna riproporre un linguaggio comune con le imprese cooperative con quella che le realtà cooperative fanno con quello che è il pilastro cooperativo per il governo c'è una cosa che tu hai detto che è molto importante cioè riporre al centro la persona è quello che noi ci vogliamo di fare come amministratori di domani riporre al centro i bisogni della persona altrimenti non saremmo nel partito democratico altrimenti non saremmo progressisti faremmo altro e in questo faccio una cucitura con l'intervento di Lisa sì pazzaglia perché ci siamo posti in uno dei workshop cioè mentre venerdì quei temi verranno fatti esplodere anche confrontandoli con le realtà cooperative per cercare di costruire una visione del territorio o meglio avere lo stesso vocabolario quando vi troverete domani ad affrontare problemi che riguardano il lavoro che riguardano il lavoro penso che sia importante anche fare un workshop in cui si affina l'arte dell'ascolto perché molto spesso vi troverete ad affrontare i bisogni dei cittadini e ciò che è peggio per voi vi troverete a non avere risposta allora per fare questo credo che anche affinare alcune tecniche su che cosa vuol dire oggi ascoltare sapere ascoltare sia importante quindi chiederei a Elisa di presentarvi un po' il tema che abbiamo chiamato appunto l'arte dell'ascolto perché anche qui ovviamente non si tratta di dare il bignami di come si può essere gli amministratori però porre il problema della relazione tra il cittadino e la comunità come fondamentale quindi anche qui la domanda che ci siamo posti è no, chi fa un amministratore vuole fare l'amministratore o vuole essere un amministratore perché è un dubbio che magari se noi stigliamo in voi può essere utile anche per il futuro Sì Ah, guarda in questi tempi ho visto l'intervento un po' esaustivo ed è interessante proprio due parole ok io rappresento qui anche il cartone del 18 che è una povera non so poi vediamo quando si riesce a continuare e dunque sono parte di questo piccolo gruppo e abbiamo fatto una 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 sintesi di quello che è l'intervento che noi proponiamo dopo l'incontro con Marco sulle tematiche che ci ha detto vi interessano di più direi un brevissimo che c'è l'opportunità di fare un lavoro in piccolo gruppo voi vi incontrate in genere ho capito che anche venerdì comunque lavorerete i sottogruppi e credo che sia molto importante per avere la possibilità appunto di vedersi di rispecchiarsi nell'altro e di ragionare su delle tematiche quindi l'idea è di fare proprio un'esperienza legata a quello che è il tema dell'ascolto che è anche molto ampio in generale ci sta detto tanta roba con Marco abbiamo analizzato anche alcune idee non sto a mettere qua a tirare fuori temi particolari e la proposta ecco dico questa parola che è usata ecco proprio in maniera molto confusiva su quelli che sono i giornali in media e tutto vi proponiamo uno psicodramma che è quello che su un giornale di solito arriva hanno fatto uno psicodramma c'è stato uno psicodramma semplicemente il psicodramma è l'idea dietro vorrei semplicemente dire mente in azione un lavoro proprio con l'azione attraverso il racconto attraverso la lavorazione di scene poste per cui la proposta è di un lavoro vedete che ho fatto il pacchetto un piccolo gruppo nel nostro spazio che è qua centrale cantoriera 18 è l'indirizzo della cantografia e c'è un piccolo teatro psicodramma la possibilità di lavorarci dentro con un piccolo gruppo e l'idea è di fare un lavoro di tre ore e poi una pausa si fa un focus group dove creeremo una situazione di incontro reale con realtà associative e cooperative con esponenti della musica civile che per ancora un gruppo minore di voi in una situazione di attuario 4 o 5 di voi si troveranno a presa diretta a rispondere e a lavorare su dei temi con altre persone e gli altri saranno schiari acquario insomma per cui direi che è un pacchettino confezionato per un'esperienza che un pochettino di segno lo lascia vediamo numericamente si discuteva con Marco quanto insomma quanti di voi riusciranno a partecipare quanti saranno interessati l'iscrizione passa sempre attraverso quelli che sono i vostri canali eccetera le piante informazioni più dettagliate e le arrevi insomma le condivideremo parliamo già di un siamo a un mese oltre perché la proposta è di due date vediamo se sono necessarie le gambe il 16 un venerdì il 17 il sabato di maggio e siamo a sì siamo di fronte e sì per cui direi pensiamoci un attimo ma il tema è ci hanno fatto veramente una proposta interessante secondo me è anche importante che ci sia un'equip di sì è un'equip alla stampa valutata io vengo da scienze politiche sono psicodramatista mi occupo di formazione e i miei interventi sono molto trasversali per cui vado da salute mentale carcere forse un buone anche a sicurezza e molto lavoro su fordini cesena e la salute mentale e anche lì dei lavori che sono con la nega con CES sull'inclusione sociale e formazione per quello che è forse un pochino e di formazione per quello che devono lavorare con il pubblico coordinare e lavorare molto con anche cooperative che operano nell'ambito del sociale quindi con gli operatori eccetera altri colleghi sono diversi terapeuti strettamente intesi eccetera comunque ci siamo organizzati in quattro per affrontarvi per condurvi tutti noi abbiamo un'idea insomma abbiamo composto un pacchetto poi vediamo che cosa riusciamo a fare insieme insomma in un seno e c'è un collega raggiù che è Antonio io direi così tanto grazie grazie anche per questa presentazione cioè apriamo le iscrizioni così come sono aperte le iscrizioni per la venerdì al workshop per segnarsi anche nei tavoli di lavoro apriamo anche l'iscrizione per questo questo altro workshop sull'arte dell'ascolto vediamo sulla base della vostra richiesta come strutturarvi in questi gruppi che sono focus group e esperienza di psicodramma l'idea ve lo dico già adesso sarebbe legarvi a un'esperienza concreta che si verificherà il 25 maggio data abbastanza particolare in cui viene fatta a Bologna una cosa molto bella secondo me che si chiama la scarrozzata che è un'esperienza in cui si chiede alle persone di accompagnare ragazzi con disabilità e provare l'esperienza della disabilità anche per mettersi nei panni dell'altro e siccome presuppone anche un certo lavoro psicologico anche perché è un'esperienza abbastanza impattante proviamo a legare questo workshop a un'attività concreta che riguarda la cittadinanza quindi non ci sarà nessuna bandiera di partito lo farete per voi e non o per i ragazzi non per evidentemente una qualsiasi iniziativa politica quindi se vi interessa mettiamo la possibilità di iscriversi sul sito e poi in base al numero degli iscritti vediamo come dividere i ruoli ancora grazie grazie a tutti Grazie.